Allora allora, rischio di morire Dove sei? No, non mi ha ancora toccato nessuno, ma rischierò di morire Vuoi sapere perché? Ho appena dato lo spawn del Luxaurus No, ma ti non lo fare Non hai capito zì? Ne ho bisogno Sì, ma pensa a tutto quello che hai fatto finora Boom, vai, vai Efidram Oh, due Luxaurus, no Ma se ne attacco uno, non ho attaccato te Non ho attaccato te, io ho attaccato lui Ho attaccato lui, non ho attaccato te Si combatte in coppia, combattiamo anche noi in coppia, va bene Ah, super lag, non vedo niente Eccoci Sono crepaso Ma io dico, no Mi vieni a salvare? Sì, 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 sì Ma perché il lag? Se non c'era il lag Se non c'era il lag, l'avevamo gestiti Infatti uno sta bruciando Eh, sono crepaso Oh, che grande seccatura Oh? Non hai capito cosa è successo, bro? Che è successo? Sono spawnato sulla mia borsa Ma in che senso? Non mi ha fatto spawnare in base, sono spawnato sulla mia borsa, bro Ma da quando? E i relaxaurus? Non ci sono Che vuol dire? Non ho visto un relaxaurus da quando sono arrivato C'è un po' di folleggiante follia, bro Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.